passiamo adesso alla categoria diritto penale il premio è quello del team legale dell'anno boutique di eccellenza diritto penale and the winner is cerqua emettica studio legale oak la profonda esperienza e la specializzazione nel diritto penale attraverso una struttura legale sinergica e un'elevata competenza giuridica in grado di apportare valore aggiunto nell'assistenza alla clientela fanno della boutique un'eccellenza in ambito legale eccoci qui allora io so che è collegato con noi l'avvocato federico cerqua co-founder dello studio legale oak non so se riusciamo a sentirlo però ci proviamo al massimo ci ricolleghiamo dopo avvocato mi sente ecco penso che ci siano dei problemi di audio facciamo così se dalla regia mi danno l'ok andiamo in pubblicità lo avete lo avete già visto il nostro ospite tra poco torniamo sempre con lui ripartiamo proprio da qui arriviamo subito ed eccoci tornati in diretta sulle fonti tv siamo arrivati al diritto penale la nostra categoria di riferimento con il premio team legale dell'anno boutique di eccellenza diritto penale in collegamento con noi l'avvocato federico cerqua co-founder dello studio legale oak e appunto il premio va proprio a cerco e mettica buonasera avvocato ci siamo buonasera a voi finalmente ci siamo buonasera ce l'abbiamo fatto a più è stato un modo anche per ripetere insomma il premio che è stato assegnato a voi che cosa mi che cosa commenta rispetto a questo riconoscimento beh due cose la prima finalmente una buona notizia visto il periodo la seconda dopo le udienze a distanza che affliggono noi penalisti adesso abbiamo anche i premi a distanza a me manca palazzo mezzanotte e però un grande ringraziamento da parte mia da parte dell'avvocato metica per il riconoscimento che ci è stato attribuito esatto infatti in questo periodo guardi mi collego a quello che lei ha detto non è il primo che che dice in questa sede che manca palazzo mezzanotte peraltro manca anche a noi perché chiaramente insomma ha tutta un'altra atmosfera però mi collego proprio al termine mancanza no sono stati due mesi anzi di più quasi tre mesi nei quali abbiamo dovuto abbandonare necessariamente a parte alcune certezze ma anche alcune abitudini le chiedo a livello professionale che cos'è cambiato se è cambiato e come intende poi eventualmente trasferire quello che è successo questi tre mesi nel futuro allora io sono molto critico da un lato la giustizia non può arrestarsi e noi almeno io come avvocato penalista devo registrare che la giustizia penale si è arrestata di fronte alla pandemia non era successo con la prima guerra mondiale non era successo la seconda guerra mondiale è successo per tre mesi per questo per questo periodo per la covide 19 e questo fatto grave gravissimo su cui sul quale noi penalisti combattiamo anche perché l'arretramento a giustizia è un arretramento dei diritti dei cittadini parlavo della dei processi a distanza ecco la manca ecco una mancanza la mancanza dei diritti i nostri assistiti molti di loro non hanno potuto celebrare il loro processo perché 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 la giustizia era ferma e quindi questo è il primo tema l'altro dall'altro aspetto sì la tecnologia ci dà una mano comunicazioni e notificazioni per esempio col pubblico ministero oppure col giudice ora sono più semplici sono agevolati dai mezzi di comunicazione che prima non venivano utilizzati e quindi sì questo può essere sicuramente un aspetto che andrà coltivato anche in futuro però a me come penalista fa paura la giustizia arrestata dal covide 19 sì come dire che questo sì 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 questo è diciamo il tassello che non riesce proprio a incastrare nella situazione che abbiamo dovuto accettare in questi tre mesi ecco non doveva succedere perché poi lei peraltro giustamente ha riportato anche altri periodi storici complicatissimi ora complicatissimi anche un termine un po' edulcorato però insomma tipo la la seconda guerra mondiale e quindi insomma lei dice bisogna sistemare bisogna partire da qui forse per proiettarsi al futuro cercare di evitare assolutamente che una cosa del genere si riproponga ma ma certamente ma certamente si possono fermare gli spettacoli teatrali si potranno fermare le manifestazioni culturali ma la giustizia non può e la giustizia penale in particolare non può e non deve fermarsi ma è la carta costituzionale che lo impone il 101 il 110 il 111 della costituzione qui invece per due tre mesi la giustizia si è fermata e non veniteci a raccontare che il processo da remoto è la panacea dei mali perché così non è anzi lo stesso processo in videoconferenza si è poi arrestato con la decretazione il profluvio di decreti che hanno di fatto arrestato anche anche il processo a distanza certo sì sì non a caso lei e anche altri colleghi stanno portando avanti proprio delle battaglie da questo punto di vista perché se si ferma la giustizia si ferma tutto cosa banale ma insomma è chiaro che è così no quindi non deve accadere lei però mi ha detto così poi la saluto però finalmente una buona notizia quella del premio per guardare avanti con con almeno un minimo di ottimismo no esattamente 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 finalmente è una buona notizia finalmente tra l'altro vedo prima la mia socia di studio che vestita voi non la vedete di rosso esattamente come lei quindi partiamo dal rosso che è un colore di speranza in qualche modo e di rilancio anche della posizione della professione legale e in generale della della giustizia penale bene bello anche questo riferimento anche se non vediamo la sua collega ce la saluti tanto va bene come saluti tutti coloro che collaborano con lei insomma quindi questo è assolutamente grazie a loro se abbiamo è certo è certo poi ci rivedremo sicuramente dal vivo non ho dubbi quindi ringrazio insomma l'avvocato è una promessa quasi una minaccia esatto no 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 va bene la mia è una promessa una minaccia bonaria ci sta perché vuol dire che dobbiamo rispettarla per forza come come cosa quindi quindi va bene se lo segni già in agenda va bene l'aspettiamo presto grazie avvocato grazie a voi grazie mille allora continuiamo con la premiazione è vero il rosso però no è simbolo di forza e noi dobbiamo dirci sempre forza andiamo avanti grazie a tutti